Mi trovo in qualche modo a proseguire una tradizione, a incarnare l'orgoglio Rai, perché questa è un'azienda importante e noi dobbiamo essere orgogliosi di lavorare per il servizio pubblico, quindi sono molto felice di essere stata scelta proprio per questo, anche perché credo di rappresentare una generazione relativamente giovane, insomma chi si trova un po' a metà, persone che hanno fatto già un pezzo di percorso come me, che hanno già un po' di esperienza ma che hanno ancora tanto futuro davanti, quindi sono veramente contenta. Significa che gli sforzi che si fanno poi a un certo punto vengono riconosciuti, io credo che c'è bisogno di spazi di confronto sempre di più, credo che l'informazione in televisione abbia bisogno di capire da che parte andare, soprattutto i telegiornali perché in qualche modo noi riusciamo ad arrivare sempre più tardi rispetto all'informazione che circola sugli smartphone, che circola in rete, sui social eccetera, ci battono sul tempo, quindi noi dobbiamo assolutamente cambiare rotta.